In preparazione al raduno nazionale dei Bersaglieri che si terrà nella nostra città tra il 22 e il 28 maggio, sabato prossimo sarà presente in città una fanfara di Bersaglieri nel centro cittadino per un grande concerto. Certo, sì, abbiamo queste tappe di avvicinamento al raduno, ci sarà grazie all'amministrazione comunale la presenza della fanfara di Scandiano che suonerà dalle 11 in poi per qualche via pedonale, forse anche vicino alla fiera e poi verso le 15.30 e dalle 15.30 alle 16.30 davanti alla gradinata del civico, dell'ingresso del civico, un concerto di questa fanfara proprio per l'avvicinamento al raduno. In questi giorni, in queste settimane siete anche molto impegnati nelle scuole per incontrare i ragazzi e spiegare loro la gloriosa storia del corpo dei Bersaglieri. Certo, sì, infatti sono in divisa perché oggi siamo stati alla scuola media Anna Frank proprio per spiegare l'epopea bersaglieresca del passato e del presente. Il presente è naturalmente impostato esclusivamente sulle missioni di pace e sui servizi sociali. Tra l'altro con le scuole la Susanna Varese, l'insegnante, ha fatto un ottimo lavoro, hanno partecipato tantissime scuole, tanti ragazzi entusiasti, producendo disegni e grafiche per naturalmente la copertina del nostro libro numero unico e anche per le cartoline, ricordo, che faremo e stamperemo quelle celebrative. Grazie a tutti!